Tra il sembrare vero con cui le avventure del Gran Caffè accoglievano nel 1895 le prime proiezioni cinematografiche dei fratelli Lumiera e il sembra un film con cui lo spettatore televisivo dell'attentato contro le Twin Towers ha reagito a quelle immagini, c'è forse un salto cognitivo che manifesta un aspetto della nostra epoca con cui già da tempo ci troviamo a fare i conti. Questa è la frase che apre il libro di Marco Di Noi, Lo sguardo all'evento, in media la memoria e il cinema edito dall'editore Le Lettere nel 2008. Un libro molto particolare che è dedicato al cinema e che mescola storia, teoria e critica del film facendoli interagire e soprattutto partendo da un punto, da un qualcosa di esterno che apparentemente sembra avere poco a che fare con il campo cinematografico. Apparentemente, perché come argomenta Marco Di Noi, l'attentato alle Torri Gemelle del 11 settembre 2001 in realtà chiama in causa proprio la capacità e le forme di mediazione che le immagini hanno del rapporto fra l'uomo e il mondo. Mediazione nel senso appunto di orientare e di dare un senso a questo stesso rapporto. E allora se questo è il cuore e il nocciolo dell'evento, dell'evento 11 settembre 2001, che cosa meglio del cinema per provare a riflettere su questi mutamenti, di queste forme delle mediazioni? Cosa meglio del cinema che, dopo tutto, non ha fatto altro, comunque tutta la sua storia, che inventare nuove immagini, nuovi immaginari di questo stesso rapporto tra gli esseri umani e il mondo. Il libro appunto è una grande cavalcata attraverso la storia del cinema e soprattutto attraverso alcuni film e alcuni autori molto particolari, da Pierpaolo Pasolini a Roberto Rossellini, da Werner Herzog a Takashi Chichitano, da Lars von Trier a David Fincher di Fight Club, film del 1999 e la copertina poi del libro stesso. E questi film vengono interrogati per cercare di non solo trovare delle possibili configurazioni visive diverse dello stesso attentato, ad esempio del film a episodi 11 settembre 2001 o ad esempio ai lavori di Spike Lee, ma anche proprio per capire come il cinema ha inventato nuove possibilità di sguardo in relazione alla messa in scena della memoria, degli eventi traumatici o semplicemente del racconto della realtà. Ora, iniziare questa serie dedicata all'11 settembre 2001 con il libro di Di Noi è dovuto al fatto che questa è stata una delle prime riflessioni, se non la prima riflessione compiuta in Italia su questo rapporto, cioè sul ruolo delle immagini nell'11 settembre. Ma iniziare con questo libro non è solo una semplice questione cronologica, è anche perché proprio in questi luoghi, in questi luoghi della biblioteca di lettere, nei luoghi, nella stanza Omar Calabrese in cui mi trovo in questo momento, sono iniziate le riflessioni. Marco Di Noi ha insegnato in questa università e proprio qui, in questi stessi luoghi, è partita la riflessione e addirittura forse la scrittura di questo libro. E allora, che cosa rimane di questo libro e soprattutto di quella frase, di noi spettatori di quelle immagini, soprattutto a 21 anni di distanza, quando magari molti spettatori non lo sono stati di quello evento? Beh, di questo libro ci rimane però una lezione di sguardo e una lezione di analisi assolutamente lucida e densa, una lezione di sguardo rigorosa che ci insegna a leggere il cinema per leggere e per meglio comprendere gli eventi che in questo momento e in questo mondo ipermediatizzato si svolgono attorno a noi.